ben a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video come al solito io sono gabrie io birillo oggi andremo a farvi vedere un nuovo liquido vai birillo della karma vipin si chiama chat net liquidozzo da roma 10 ml abbiamo aggiunto 30 ml di basetta al suo interno c'è un biscotto di pasta frolla accompagnato con una crema di latte e vaniglia biscottone alla boccetta è come quella che abbiamo fatto vedere nel video precedente si apre da una parte molto comoda col beccuccio piccolino non serve che tiri via basta che apri butti dentro la basetta e pronto andiamo a fare la prova di questo liquidozzo vai gabrie ghani e druga io ghani apocalips non è amare a me il biscotto piace il biscottone sembra tipo quei dolci che fa la nonna con le mariglie si è vero che voto gli dai 6 e mezzo io gli do 7 e mezzo perché il biscotto mi piace io non sono amante di questi liquidozzi così non sono amante di questa roba qui sono proprio sotto un'altra categoria di liquidi ci sta sono un un po' troppo troppo odiosi non mi guarda basta no va a gusti va a gusti va a gusti io ci sto un 6 e mezzo non è nel mio range range però liquidozzo all di si può piacere un po' anche tempo così può anche piacere si se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram meriteci a trovare ciao